C'è preoccupazione e rabbia tra i docenti in attesa di una cattedra. In tanti guardano l'ufficio scolastico provinciale e sospirano. Anche quest'anno tanti errori, sbagli, inversioni. Sono state eseguite assegnazioni per nomine di supplenze senza avere una disponibilità dei posti. Alba Filomena Caridi, segretario generale CGL Scuola Cremona. Questo ha creato una grande confusione. L'ufficio scolastico regionale avrebbe chiesto all'ufficio scolastico territoriale di accantonare dei posti per successivo scorrimento delle graduatorie per le emissioni in ruolo da concorso. Quindi è una situazione che è veramente poco chiara. Dunque l'ufficio scolastico territoriale di Cremona è in difficoltà. Sta facendo fatica anche a gestire tutto l'iter. Manca comunque un'informativa nei nostri confronti e quindi adesso ci sono delle persone che si aspettavano di ricevere un'assegnazione per svolgere il loro lavoro anche quest'anno come negli anni scorsi. Quindi parliamo di gente che fa da precario ormai da diversi anni e grazie ai quali le nostre scuole vanno avanti, funzionano e che invece si è trovato senza assegnazione. Ma quindi l'errore qual è stato? Fondamentalmente è mancata una calendarizzazione di tutte le operazioni ma a partire proprio anche da quest'estate. Non c'è stata una calendarizzazione delle operazioni di emissioni in ruolo per cui queste si sono protratte, si sono dilungate. Un'altra situazione che si è venuta a creare è una sovrapposizione di procedure. Grande confusione anche per l'assegnazione delle cattedre. Sarebbe andato in tilt all'algoritmo. Chi aveva chiesto prima di poter fare il sostegno si è visto assegnare una supplenza per l'insegnamento della materia e viceversa. Chiesto un incontro urgente con il provveditore per chiarire cosa stia succedendo e come si sta lavorando in vista dell'avvio dell'anno scolastico che anche quest'anno partirà con molte cattedre vuote. Ogni anno ci si aspetta che la situazione migliori però anche quest'anno il rischio è quello che le nostre scuole inizino senza il personale adeguato. Non parlo soltanto di docenti, parlo anche di personale ATA. La nostra paura è quella che l'anno scolastico, i nostri ragazzi all'inizio dell'anno scolastico non abbiano il personale sufficiente.